qualche settimana fa nel gruppo goccia goccia gruppo telegram del quale qua sotto in descrizione c'è il link per potervi accedere e nel quale si fanno di volta in volta alcune raccolte per cercare di dare una piccola mano a chi ha più bisogno di noi abbiamo fatto una piccola raccolta e abbiamo deciso di aiutare l'associazione agbd di verona dopo che abbiamo fatto questa donazione qualche giorno dopo mi è arrivata questa email che voglio condividere con voi perché mi sembra giusto condividerla con chi ha contribuito a fare a raccogliere quei soldi e a fare questa piccola donazione caro gruppo goccia goccia vogliamo esprimervi la nostra gratitudine sincera e profonda per la vostra generosa donazione a favore dei nostri ragazzi con sindrome di down grazie al vostro contributo avremo l'opportunità di migliorare la vita di questi ragazzi fornendo loro le risorse ed il sostegno di cui hanno bisogno per crescere imparare e diventare pienamente autonomi la vostra donazione concretamente ci permetterà di sostenere un intero weekend di attività residenziale per un ragazzo adulto con sindrome di down fabiano uno dei 50 ragazzi adulti con sindrome di down che sosteniamo avrà l'opportunità di imparare e sviluppare maggiori abilità per diventare più autonomo grazie anche la vostra generosità fabiano potrà partecipare al progetto autonomamente che offre uno programma di semi residenzialità per lo sviluppo di una serie di competenze fondamentali per la sua indipendenza questo include imparare a preparare pasti gestire il proprio denaro muoversi in modo sicuro sulla strada e utilizzare i mezzi di trasporto pubblico queste abilità gli permetteranno di affrontare la vita quotidiana con maggiore sicurezza e fiducia un po come la maggior parte di noi già fa diamo la possibilità a questi ragazzi di migliorare sensibilmente la loro vita sappiate che la vostra generosità è importante e la vostra donazione farà una differenza reale nella vita di fabiano e di altri ragazzi come lui grazie al sostegno che riceviamo potremo fornire loro un'opera opportunità unica di sviluppo personale consentendo loro di raggiungere livelli di autonomia che potrebbero non essere stati possibili altrimenti ancora una volta grazie per il vostro prezioso supporto la mail in questione scusate mi sono un po emozionato la mail in questione porta la firma di filippo bogoni che il responsabile delle raccolte fondi per l'associazione a gbd di verona mi sembrava giusto condividere con voi queste questa email perché comunque io noi mettiamo l'idea ma voi voi ci date una grandissima mano a realizzarla e poi quando ricevo queste mail quando si hanno questi riscontri beh devo dire che la vita in questi momenti ha un sapore decisamente migliore molto molto più dolce ciao 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 ciao